Anticipazione Il Segreto, lunedì 27 maggio 2019 Consuelo per fortuna compare all'improvviso e riesce a salvare Elsa dalle grinfie di Antolina. Quest'ultima, messa alle strette, non sa come trovare le parole giuste per giustificarsi. Elsa quindi viene trasferita in locanda e racconta ad una sconvolta Marcella che cosa le è successo. Dice di essere certa che Antolina ha tentato di ucciderla. Zapaleta intanto lascia emergere un'inquietante verità sulla signora Guerrero, la cui posizione si aggrava sempre più. Consuelo successivamente a modo di restare da sola con il medico e spiega di essere certa di una cosa. Elsa soffre di terribili dolori allo stomaco e svenimenti da quando è ospite in casa Guerrero. Dietro ai suoi malesseri si cela l'ombra nera di Antolina, che per lei la sta avvelenando. Zapaleta non può credere alle sue orecchie. Grazie a tutti.